Ha conquistato il mondo con i suoi scatti, una star della fotografia, Tony Vaccaro ha tagliato il traguardo dei cento anni e il suo paese, Bonifro, lo ha voluto festeggiare anche se da lontano. Una videochiamata speciale, un tributo dall'auditorium del convento Santa Maria delle Grazie. Vaccaro che vive a New York, a Bonifro trascorso la sua infanzia, ci è tornato spesso. Proprio in paese da otto anni c'è una mostra permanente dedicata alle sue foto. Il decano della fotografia ha raccontato con i suoi scatti la Seconda Guerra Mondiale e gli anni successivi, oltre 20.000 fotografie. Si è dedicato alla moda, decennale la collaborazione con le più popolari riviste americane, catturati dal suo obiettivo i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell'arte e anche della politica, da Kennedy a Sophia Loren. In una recentissima intervista, dopo aver superato per due volte il Covid, al New York Post ha spiegato i motivi della sua longevità. Tutto merito di cioccolato, ha detto, vino rosso e determinazione. Hai raggiunto un traguardo epico, gli ha detto il sindaco di Bonifro, Nicola Montagano. Ci sono tanti amici qui oggi per augurarti un buon compleanno. Speriamo di rivederti presto a Bonifro, la tua è stata una vita straordinaria. Siamo onorati di avere un concittadino illustre come te. Un toni vaccaro emozionato, ha espresso tutto l'affetto per la sua amata terra. Grazie mille a tutti, ha detto, sono orgogliosamente buon e frano e non vedo l'ora di tornare.